Le Beats X arrivano ufficialmente in Italia, Tim Cook dichiara guerra serrata alle fake news e iPhone 8 potrebbe integrare uno scanner dell'iride, ricarica induttiva, ma il prezzo supererà i 1000 dollari. Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News. Andiamo a scoprire le notizie più interessanti della settimana in ambito Apple dopo la sigla. Partiamo dalla prima notizia che riguarda Planet of Apps, la prima serie TV prodotta, realizzata da Apple che sarebbe ora completata, almeno a livello di ripresa, sarebbe stata girata interamente da Apple che vorrebbe raccontare con questa serie TV il successo e l'importanza delle applicazioni nel mondo quotidiano. Per quanto riguarda la pubblicazione della serie TV non ci sono ancora indicazioni né su dove verrà pubblicata come si potrà guardare né a livello di tempi, ma è probabile che venga lanciata in concomitanza con la WWDC 2017 che si terrà come ogni anno verso giugno. In settimana poi Tim Cook si è schierato come altri esponenti del mondo high tech contro le fake news. Tim Cook ha dichiarato che è importante combattere quelle realtà che realizzano notizie false perché ovviamente vanno ad influenzare il parere di chi le legge, di chi le ascolta, di chi guarda determinati servizi e per far questo lui suggerisce appunto un controllo dell'informazione ma non tanto da diventare una quasi censura, una limitazione alla libertà di espressione comunque importantissima e fondamentale e indispensabile secondo Tim Cook. Ma in settimana sono state soprattutto lanciate le tanto attese Beats X sono arrivate infatti in tutto il mondo, inclusa l'Italia sono cuffie diverse ma simili alle Airpods hanno lo stesso chip W1, il chip wireless di Apple che consente di abbinarle in modo intelligente, istantaneo e di condividere l'abbinamento tramite i cloud appunto delle Airpods ma loro hanno un filo in mezzo, hanno un telecomandino in line sono disponibili in quattro versioni cromatiche c'è il blu, c'è l'azzurro, c'è il bianco e c'è il nero e c'è anche da dire che i primi pareri su queste cuffie sono stati molto molto positive c'è chi ha notato ad esempio un miglior isolamento rispetto alle Airpods perché sono cuffie proprio in ear c'è chi ha notato anche una migliore riproduzione dei bassi rispetto alle Airpods ma c'è anche chi ha notato una migliore versatilità proprio delle Airpods invece rispetto alle Beats X costano 30 euro di meno rispetto alle Airpods sono ora disponibili quindi a 149 euro e 95 centesimi su Apple Store o su altri negozi insomma che le abbiano già disponibili bene parliamo ora di iPhone 7 iPhone 7 che in questa settimana è emerso a livello globale un problema che la nostra redazione in particolare il nostro Claudio aveva già notato sul suo iPhone 7 matte black già praticamente dopo poche settimane dall'acquisto in particolare il problema riguarderebbe la sverniciatura di alcuni iPhone 7 neri opachi che appunto perderebbero parte del trattamento dell'alluminio anodizzato insomma parte del colore nero e quindi rivelerebbero il vero colore dell'alluminio Apple sta rispondendo al problema proprio i forum di Apple sono abbastanza pieni di problematiche di foto ci sono tantissime foto in rete e appunto Apple potrebbe ben presto riconoscere il problema anche se al momento sta comunque rispondendo che questa problematica non è coperta da garanzia in quanto probabilmente non riescono ancora a spiegarsi i motivi se dopo successive indagini riusciranno a confermare appunto che su tantissimi, su tanti, su pochi, su quanti saranno dispositivi è stato riscontrato il problema ed è un problema di fabbrica sicuramente conoscendo Apple provvederanno a fornire una riparazione, una sostituzione del dispositivo senza alcun costo ma per il momento insomma c'è ancora da attendere perché Apple non ha ancora riconosciuto ufficialmente la problematica parliamo ora di iPhone 8 ci sono quattro novità su iPhone 8 la prima è un concept un po' diverso da quello della scorsa settimana molto diverso, molto più irrealizzabile, più futuristico un iPhone 8 con display OLED trasparente completamente trasparente che quindi faccia trasparire appunto la luce o quello che stiamo inquadrando col telefono in quel momento senza nessun genere di cornice senza tasti del volume senza tasto home solo col tasto di accensione senza capsula, senza fotocamera anteriore senza nulla e con il touch ID integrato sotto lo schermo veramente una cosa di futuristico bello ci mancherebbe ma ovviamente irrealizzabile per il momento irrealizzabile come per molti forse il sogno di un iPhone 8 che è stata questa una delle notizie più discusse anche sul nostro sito iPhoneItalia.com della settimana iPhone 8 potrebbe superare i 1000 euro ora o meglio i 1000 dollari ora però inquadriamo la cosa perché iPhone 7 già supera i 1000 dollari negli Stati Uniti supera abbondantemente i 1000 euro con il modello da 256 giga che sfonda di gran lunga i 1000 euro quindi è stata una notizia secondo me presa male molti l'hanno intesa come iPhone 8 costerà minimo 1000 euro il che potrebbe anche essere se iPhone 8 sarà il modello top rispetto ai due iPhone 7S beh è logico potrebbe benissimo partire da 1000 euro perché Apple continuerà a vendere magari l'iPhone 7S partendo dai 779 l'iPhone 7S Plus a partire da 889 e poi gioco forza iPhone 8 se dovesse avere un listino e delle configurazioni simili agli altri due dispositivi avrebbe di sicuro almeno uno stacco da iPhone 7S Plus di 100 euro e quindi si arriva sui 1000 tutto questo ovviamente va verificato ma appunto l'iPhone 8 potrebbe costare più di 1000 euro e non solo però perché su iPhone 8 ci sono altre due notizie che riguardano appunto la ricarica wireless si era detto che sarebbe stata su tutti i dispositivi invece c'è un nuovo rumor come vi stavo dicendo che presuppone la presenza della ricarica wireless solo su iPhone 8 che avrà uno schermo da 5 pollici torno a uno dei vecchi rumor su iPhone 8 ve ne avevo parlato qualche mese fa secondo cui iPhone 8 non sarà un phablet ma sarà un dispositivo di dimensioni piuttosto media ecco un 5 pollici, un 5.1, un 5.2 e avrà appunto la ricarica wireless induttiva se questo rumor fosse confermato ci verrebbe di nuovo da pensare che solo iPhone 8 sarà in vetro e sarà totalmente diverso rispetto ai precedenti e gli altri due saranno iPhone 7S è tutto da vedere ragazzi c'è molta indecisione ancora ma la novità aggiuntiva è che iPhone 8 un po' come già fanno alcuni smartphone come si presuppone possa fare S8 avrà secondo questo nuovo rumor di DigiTimes che non è una fonte che di solito sbaglia iPhone 8 avrà uno scanner per l'iride quindi potrà essere sbloccato semplicemente guardandolo potrebbe essere una novità interessante soprattutto per sopperire alla scomparsa almeno nella classica posizione del Touch ID una soluzione ancora più veloce rispetto al Touch ID se vogliamo con il Race to Wake ha veramente tanto senso questa funzione sollevando il dispositivo si accende lo schermo e poi guardandolo banalmente si sblocca è una soluzione molto Apple Style secondo me perché ti rimuovono un ulteriore passaggio quello di premere il tasto, di sbloccare con il Race to Wake il telefono si accende ed è pronto per essere guardato e utilizzato con questo sblocco con l'iride quindi una soluzione veramente intuitiva molto Apple Style vedremo se arriverà davvero ma appunto come vi ho detto prima potrebbero essere necessari ancora più soldini per portarsi a casa questo iPhone 8 lo scopriremo probabilmente solo a settembre non sono previsti lanci anticipati anche se qualcuno ha parlato di questo bene ragazzi quindi questo era iPhone 8 News di questa settimana se vi è piaciuto il video come al solito lasciate un bel like condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al nostro canale noi ci risentiamo alla prossima e come ho già anticipato anche sul nostro secondo canale Tech per cui ci sono in arrivo delle belle novità la settimana che andrà praticamente dal 26 al 3 marzo dal 26 febbraio al 3 marzo noi saremo impegnati proprio con Tech al Mobile World Congress 2017 quindi vi invitiamo a seguirci a seguirci su Tech perché? perché la programmazione di iPhone Italia almeno a livello di canale YouTube quella settimana sarà decisamente diversa ci saranno probabilmente meno video non ci sarà un iPhone Italia Hot News in quella settimana perché appunto saremo impegnati saremo in fiera staremo girando tra i vari padiglioni delle aziende che presenteranno novità LG, Sony, Samsung, Huawei ci saranno veramente tanti eventi saremo decisamente stressati e impegnati ma se volete avere la vostra dose di Andrea Cervone di Francesco Siciliani di Claudio Sardaro potete seguirci su Tech perché sarà una settimana sicuramente molto interessante quindi ancora grazie per aver guardato il video noi ci risentiamo alla prossima ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com Grazie a tutti